Giornata di festa nella scuola di Torre del Greco. Questa mattina il flash mob per la sensibilizzazione di alunni e genitori nel giusto conferimento dei rifiuti. Partire dai giovani per poter educare la popolazione soprattutto nei confronti di una delle problematiche principali del territorio, i rifiuti. L'amministrazione di Torre del Greco insieme al corpo della Polizia Municipale ha incontrato gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado spiegando loro le azioni a contrasto dello sversamento dei rifiuti attraverso fototrappoli. Grande la partecipazione dei plessi scolastici del territorio che hanno appositamente preparato striscioni, cori e balli. È stata una giornata diversa, una giornata bella, colorata, allegra, dove i ragazzi, i nostri bambini hanno insegnato tantissimo a noi adulti. La partecipazione del mondo della scuola è stata commovente. In ogni istituto della città abbiamo registrato delle manifestazioni che hanno, credo, toccato il cuore e la sensibilità di ognuno di noi. Adesso però tocca a noi, tocca a noi adulti, dimostrare che abbiamo imparato e sappiamo rispettare le regole. Il rifiuto va depositato sotto la propria abitazione. Non è pensabile che si possa assistere ormai ripetutamente da giorni allo sversamento in punti non autorizzati. Questo, oltre a sporcare la città, sporca la dignità e l'orgoglio di noi torresi. Quindi davvero, per quanto mi riguarda, un ringraziamento forte, sentito, sincero, agli alunni, ai ragazzi, agli docenti, al personale scolastico, ai dirigenti scolastici che hanno fatto sentire forte il proprio aiuto. Sono stato in tante scuole della nostra città e la partecipazione dei ragazzi è stata veramente di un entusiasmo, con cori, con quadretti, di tutto di più. Io vi devo dire onestamente sono rimasto entusiasta e ho applaudito a quella che è la futura generazione. Come sempre le responsabilità sono solo ed esclusivamente dell'amministrazione. Tutte le colpe sono sempre il professore del sindaco. Mi prendo sempre tutte io le responsabilità. Ma stamattina avere questa gioventù, questi ragazzi di tutti gli istituti, a partecipare, hanno accolto quella che è la richiesta fatta dall'amministrazione comunale, dall'assessore Pensate, dall'assessore Mirabella, con la partecipazione del consigliere Mele e il delegato all'NU. Devi darci una serie di loro stesso, ci hanno imbogliato, imbogliano i loro genitori, la cittadinanza, a collaborare con l'amministrazione. Unica responsabile, ma questi ragazzi hanno dato la massima collaborazione. Un grazie, un vero grazie a tutti voi. Siete il futuro della nostra città. Io ho applaudito a tutti quanti. E continuo a dire, e grazie di questa intervista, che veramente è stato bello stamattina vedere l'entusiasmo. Grazie a tutti. Queste sono alcune delle immagini delle scuole facenti parti del Flash Mob. Presto lo speciale di TV City, con tutte le iniziative della giornata.